Consigli di corsa, in questo caso di gare, quali sono le tre ragioni per correre la mezza maratona di Copenhagen che è gold label di World Athletics, in primo luogo sicuramente 25.000 partecipanti, quindi potreste trovare codisti che corrono al vostro passo, qualunque esso sia, il vincitore dovrebbe correre in 58 minuti in secondo luogo è una gara super organizzata, nonostante questo numero di persone troverete un personale simpatico, gentile e al tempo stesso che in 5 minuti vi dà la maglietta e tutto quello che vi serve per correre, io correrò con il team Top 4 Running che si sono dimostrati come al solito molto disponibili nell'evento ShakeOut Run del sabato mattina, bonus point, danno una maglietta della Nike che ha il suo perché, io correrò finalmente con le Vaporfly Next% 3, non con quelle bianche ma con quelle nuove, voi nel frattempo Stay Strong Keep Running seguitemi, l'anno prossimo vi invito a partecipare ciao alla prossima